10 5 4 3 2 1 vai 50 sinistra 4 per destra 5 sì 200 attenzione sinistra 3 meno meno 20 tornante destro per destra 3 sì per destra 3 lunga 50 al muro al centro sinistro attenzione tornante sinistro sale destra 5 lunga al muro sinistra 5 lunga tieni 50 al mureto destra 3 e subito sinistra 3 a rail tornante destro accendo sinistro 200 com'è com'è al cartello tornate sinistro gira 20 tornante destro per sinistro per sinistra per sinistra alla casa sinistra 3 meno lunga per destra 3 diventa 4 lunga 50 50 e al cimitero sinistra 3 lunga sconnesso destra 3 diventa 2 3 diventa 2 per sinistra 3 e destra 4 attenzione al muro diventa 2 al palo sinistra 3 scivola per accenno sinistro e al mureto destra 3 per accenno sinistro e destro lungo 50 al cartello ritardo sinistra 3 subito destra 3 subito attenzione inversione sinistro fallo bello largo accenno sinistro per destra 3 lunga tieni per sinistra 3 e sinistra 4 al cartello sinistra 4 si vai allo specchio destra 2 e subito sinistra 3 100 al cartello sinistra 5 si 50 e al palo attenzione destra 3 meno chiude per accenno destra e sinistro e destra 5 lunga lunga vai a rail attenzione sinistra 3 lunga per destra 4 si e sinistra 3 chiude chiude per destra 4 lunga tornante destro pulito sinistra 3 lunga lunga scivola per destra 3 si accenno sinistro 50 e attenzione a rail destra 4 si per accenno sinistro e attenzione al ponte sinistra 2 scivola sinistra 3 e destra 4 a rail destra 3 meno per sinistra 3 per destra 4 gira sinistra 3 meno lunga sinistra 3 meno lunga vai 100 sinistra 2 chiude scivola la macchina ti ho prestato per sfiori il freno maremma maiala di donna Kyle su T 8 6 8 9 14 11 11 11 12